Il sabato pomeriggio si è tenuta la presentazione del drappo dipinto dall'artista Paolo Lazzerini in occasione della seconda edizione del Palio delle Contrade San Paolino, in programma per domenica 30 settembre in piazza San Michele, dove i balestrieri dell'associazione si sfideranno a colpi di verrette scagliate con le potenti balestre da banco per conquistare l'ambito palio. Alla presentazione sono intervenuti Paolo Gianni, presidente delle Contrade San Paolino, Rosella Simoncelli, presidente della Contrada Sant'Anna e Liliana Ciaccio, presidente del Centro Arti Visive del Comune di Pietrasanta.